Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 fa anche un pochettino che sento va? qualche più mettina delle prime che è rimasta per terra forse è però sempre in quella direzione non posso spostarci, ma non devo rubare niente Infatti, non c'è. Se ti dà la botta perché era la maglia che toccita... Eh già, dalla parte infatti lui c'era la botta. Ovviamente è una gagnina giovane che ancora non ha fatto un anno, deve continuare a fare l'esperienza sua. Adesso sta anche sulle buzze, perché ci sono molte buzze fresche, perché sono state lasciate anche da poco. Quindi ovviamente sta un pochettino più attenta, ci sa che possa anche fermare la mezza ferma in bianco, però lascia la stanno, non glielo di niente, perché comunque deve fare l'esperienza sua, deve una gagna e deve maturare. E' un ruolo più giusto, guarda. Eh ma l'ho visto, una macchinetta. Per giù. Sì, che va bene a parte. ...che va bene, aspetta, eh. a presto Grazie. 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 Sì c'è giù sopra Eeeh E' un po' nascosta e mi saa che un po' più sottare l'iolle Poi che la senti male E' un po' sottu Ma sai che è una buchetta la? Qua Si è un po' accelerata E' un po' sottu Non c'è più allora, si è spostata E' un po' sottu Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.